Continuiamo in questo viaggio che a questo punto trova a Sassari la sua tappa, ovviamente questo cerchio intorno a me con Gè dagli amici di Oliena e Sassari è presente con un'altra associazione che dai primi anni del 2000 ha rimesso insieme le parti dell'abbigliamento tradizionale sassarese. Loro sono il gruppo folk Gurusele Tattari, saranno accompagnati da Davide Cadeo e Suballu Apassu, l'antica fonte del Gurusele di età romana e la fontana del Rosello che dal 1606 è uno dei monumenti di dotazione architettonica tra i più interessanti d'Italia ed è ovviamente uno dei simboli di questa città che con i candelieri festeggia così come con la cavalcata sarda. Loro sono pronti stasera per regalarci una danza del repertorio Gurusele Tattari da Sassari. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!